Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in cui vi condurremo in un palazzo storico risalente al XIX secolo, un'autentica gemma nel cuore della Valle d'Itria. Ogni angolo di questo palazzo è colmo di storie e fascino, con affreschi originali che narrano storie del passato. La struttura è suddivisa in cinque mini appartamentini, ognuno dotato di arredi pregiati, comfort moderni e parquet. Entrando nel palazzo accediamo in una grande camera di vita a zona collazione. Al primo piano troviamo i primi due appartamenti, con volti alti e apprescate, ampie finestre che conferiscono luminosità in ogni ambiente ed un moderno bagno. Al secondo piano altri tre appartamentini, di cui due con camere da letto e bagno privato, ed uno con doppio accesso, cucina abitabile, soggiorno con camino e vanno letto con bagno. Infine, ritornando al piano terra, troviamo un ultimo appartamento con ingresso indipendente, che ci accoglie in un ampio vano impreziosito da scenografico camino e volte a crociera, predisposto con più posti letto ed accessoriato con cucina, lavanderia e bagno. Gli spazi sono pensati per offrire un'esperienza abitativa unica, mantenendo l'autenticità dell'architettura dell'epoca. Le cantine con volte a crociera aggiungono un tocco di raffinatezza e offrono spazi ideali per la conservazione di vini pregiati o per creare ambienti suggestivi. Il palazzo si trova nel cuore puzzante del centro storico di Martina Franca, suggestiva località da poter ammirare grazie alla splendida vista panoramica che offre l'ampio terrazzo, che sovrasta questa meravigliosa residenza storica, collocata a breve distanza da piazze pittoresche, ristoranti gourmet e negozi caratteristici e pertanto ideale come struttura ricettiva. Non esitate a contattarci, prenotate subito il vostro appuntamento, saremo lieti di mostrarvi questa splendida soluzione. Ciao alla prossima!